Ciao ragazzi, come promesso questa volta parleremo delle crociate. Già la volta scorsa abbiamo visto che era stata proclamata nel 1095 la prima crociata nel concilio di Clermont da parte di Urbano II. Questi l'aveva fatto per cercare anche di deviare la violenza di certi cavalieri cristiani dall'Occidente verso l'Oriente per mandarli in Terra Santa in modo che la liberassero. All'inizio però a rispondere alla chiamata di Urbano II non sono subito i cavalieri ma inizialmente un gruppo di poveri ed emarginati. Quindi la prima crociata, diciamo non ufficiale, viene chiamata Crociata dei Pezzenti. Questa venne guidata da un certo Pietro Damien che era un predicatore detto l'eremita. Pietro Damien insieme ad alcuni nobili decaduti guidò questo gruppo di Pezzenti, tra cui c'erano anche donne, bambini, anziani e malati, verso la Terra Santa. Questo gruppo così variegato giunse nelle valli del Reno e del Danubio e qui compì dei massacri, dei saccheggi a danno degli ebrei che vivevano in quelle terre. Infatti gli ebrei erano considerati infedeli. Tuttavia questi cosiddetti Pezzenti furono sconfitti in Ungheria da parte dei nobili e dei contadini del luogo e solo in pochi riuscirono ad arrivare in Anatolia, nella penisola che oggi è occupata dalla Turchia. Qui furono sterminati dai turchi che, come abbiamo visto l'altra volta, avevano conquistato la zona. Quindi ad arrivare a Gerusalemme furono davvero in pochissimi e tra questi ci fu però Pietro l'eremita che aveva guidato la spedizione. Come abbiamo detto però questa non fu la vera prima crociata ufficiale, semplicemente questi furono i primi a rispondere alla chiamata di Urbano II, ma la vera prima crociata, quella ufficiale, partì in realtà poco dopo. La prima crociata ufficiale ebbe inizio dunque sempre nello stesso anno, nel 1096, e a guidarla ci furono molti nobili, francesi e normanni specialmente, come Goffredo di Buglione, che era il duca della bassa Lorena, o Roberto, il duca di Normandia. Ovviamente non poterono partecipare né il re di Francia, Luigi VI, né l'imperatore Enrico IV, che erano stati scomunicati dal papa. I crociati, che come abbiamo detto l'altra volta sono chiamati così per la croce che portavano sulle vesti e sugli standardi, arrivarono a Gerusalemme grazie alle navi fornite dalle repubbliche marinare. Essi assediarono la città per diverso tempo, finché nel 1099 non riuscirono addirittura a conquistarla. A questo punto ci fu un momento di vera violenza, poiché i crociati massacrarono gli infedeli, quindi sia i musulmani che gli ebrei che vivevano nella città. I crociati fondarono poi diversi regni nei territori che avevano conquistato, tra cui il regno di Gerusalemme. Questi regni però ovviamente non erano dei regni forti, perché innanzitutto erano stati fondati in un territorio dove c'erano i nemici dei crociati, quindi c'erano dei rapporti molto difficili con la popolazione del luogo. In più c'erano dei contrasti tra gli stessi signori feudali. In questo periodo, dopo la conquista di Gerusalemme, quindi dopo la prima crociata ufficiale, nascono degli ordini monastici molto particolari, che vengono detti monastico-cavallereschi. Perché i loro membri sono sì dei monaci che prendono quindi i voti religiosi e devono rispettare per esempio il voto di castità, ma sono anche dei veri e propri cavalieri che hanno il compito di difendere la terra santa e di combattere contro gli infedeli, in primo luogo i musulmani. Vediamo un po' di questi nuovi ordini. Uno fu quello degli ospedalieri di San Giovanni, che sono conosciuti oggi come cavalieri di Malta. Infatti ancora oggi esiste quest'ordine monastico-cavalleresco. Poi ci sono i cavalieri del Santo Sepolcro, che sono chiamati così perché proteggevano la tomba di Gesù Cristo. Forse i più famosi sono i cavalieri del Tempio, noti come Templari. Venivano chiamati così perché avevano sede nel Tempio di Salomone a Gerusalemme. Alla fine del XII secolo si formò poi un altro ordine, che è quello dei cavalieri teutonici, che si occupò di convertire le popolazioni dell'Europa nord-orientale, tutte quelle popolazioni che ancora avevano una religione pagana. Vediamo ora le altre crociate, quelle che seguirono la prima crociata proclamata da Urbano II. La seconda crociata fu proclamata perché i turchi, nella prima metà del XII secolo, avevano riconquistato alcuni territori che erano stati presi dai crociati. Per questo motivo il re di Francia, Luigi VII, decise di bandire nel 1147 la seconda crociata. A questa parteciparono importanti sovrani, cioè l'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado III, e anche un sovrano che già conoscete, cioè il re di Sicilia, Ruggero II. Ne abbiamo parlato infatti quando abbiamo studiato la conquista normanna dell'Italia meridionale. Ruggero II era infatti figlio di Ruggero che conquistò la Sicilia nel 1091 e che a sua volta era il fratello di Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, che sconfisse i bizantini e ottenne dal Papa il titolo di Duca di Puglia, Calabria e Sicilia. Ruggero II fu colui che riuscì a riunificare tutti questi territori e fu incoronato a Palermo, re di Sicilia, di Calabria e delle Puglie nel 1130. Quindi nel momento in cui viene proclamata questa crociata era re da quasi vent'anni. La seconda crociata tuttavia fu un fallimento, durò soltanto due anni e non fu portata a termine per via delle rivalità fra i sovrani che la guidavano. Successivamente ci fu una nuova minaccia per i crociati e un condottiero musulmano chiamato il Saladino creò un proprio regno tra l'Egitto e la Siria e iniziò ad attaccare i territori che erano stati conquistati dai crociati. Addirittura nel 1187 riuscì a riconquistare la città di Gerusalemme. A questo punto l'Occidente volle rispondere per liberare di nuovo la Terra Santa e fu quindi organizzata la terza crociata che durò circa tre anni, dal 1189 al 1192. A questa crociata parteciparono moltissimi sovrani importanti, uno fu l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico I Barbarossa, poi ci fu il re di Francia Filippo Augusto e infine il re d'Inghilterra Riccardo Quardileone. Anche questa crociata però fallì, infatti fu sempre un problema tra i sovrani a farla fallire, poiché i vari condottieri non riuscirono a coordinare bene le loro forze, a guidare bene le loro truppe e quindi i territori conquistati dal Saladino rimasero nelle sue mani, in mano agli infedeli dal punto di vista dei crociati. Tra l'altro durante la spedizione morì anche uno dei sovrani che la guidava, cioè Federico I Barbarossa. L'occasione per i crociati di tornare all'attacco venne con la morte del Saladino. Infatti con la sua morte il suo regno si disgregò e divenne più debole. Papa Innocenzo III ne approfittò quindi per proclamare la quarta crociata nel 1202. In questa crociata ebbe un ruolo molto importante la città di Venezia, che offrì le sue navi per trasportare i crociati. Non lo fece però gratuitamente ma volle qualcosa in cambio. Voleva cioè che i crociati riconquistassero per Venezia la città di Zara, che apparteneva ai veneziani ma si era ribellata. I crociati quindi riuscirono a riconquestare questa città che consegnarono a Venezia e poi andarono ad aiutare anche l'imperatore bizantino, che era stato deposto da suo fratello. Quindi il suo trono era stato usurpato e i crociati riuscirono però a riportarlo al potere. Tuttavia l'imperatore non ricompensò i crociati come aveva promesso e questi in tutta risposta saccheggiarono e conquistarono la città di Costantinopoli nel 1204. Al posto dell'impero bizantino quindi ci fu l'impero latino d'oriente fondato dai crociati, che però non durò a lungo, infatti fu poco dopo riconquistato dall'imperatore bizantino Michele VIII, paleologo, che ripresi il potere nel 1261. La quarta crociata quindi, come vedete, fu molto diversa dalle altre, infatti non si arrivò nemmeno alla Terra Santa, anzi fu una lotta tra cristiani, più che tra cristiani e infedeli. Infatti non si arrivò neanche a combattere i turchi, ma i crociati si fermarono a Costantinopoli, quindi fu una lotta interna, diciamo. Anche le altre crociate che vennero dopo fallirono tutte, finché nel 1291 i musulmani non riuscirono a conquistare San Giovanni d'Acri, che praticamente era l'ultimo territorio che era ancora in mano cristiana. Così i cristiani fallirono nel progetto di riconquistare la Terra Santa. Le crociate furono dunque un disastro, un vero e proprio insuccesso sia militare sia politico, che ebbe come conseguenza quella di inasprire i rapporti fra i cristiani e i musulmani. Le uniche a guadagnarci, diciamo, furono le repubbliche marinare, specialmente Venezia e Genova, perché ebbero moltissimi vantaggi economici dalle crociate, ampliando anche le loro rotte mercantili. Come abbiamo visto, spesso fornirono le navi per i crociati e certamente non lo fecero gratuitamente, ma sempre per un loro tornaconto. La lezione è finita. A presto ragazzi!